A fare scattare l'allarme lunedì un dipendente comunale che ha segnalato la presenza di un pezzo di mattone di circa 7 centimetri nella parte interna di Porta Vicenza. Immediato è scattato il sopralluogo prima dell'ufficio tecnico del comune di Cittadella, poi della ditta incaricata della manutenzione che ha potuto controllare le superfici e lo stato della merlatura con la chiusura della porta nel pomeriggio di ieri. Le verifiche hanno dato esito negativo. La caduta potrebbe essere stata una delle conseguenze della numerosa presenza di piccioni che con le ali spostano i mattoni delle mura e che qui spesso nidificano, ha spiegato il sindaco di Cittadella Luca Piero Bon. Una parte importante è quella di Porta Vicenza, ingresso occidentale alla città murata che unica in Europa conserva un camminamento di ronda di forma ellittica completamente percorribile. Per la conservazione di questo patrimonio così prezioso, il comune investe ogni anno 100.000 euro in manutenzioni, qui si aggiungono interventi straordinari periodici.